Milioni di utenti di TripAdvisor, attraverso le opinioni e recensioni dei viaggiatori, hanno disegnato il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come migliore parco d'Italia nella classifica Traveler's Choice 2021, dedicata ai parchi nazionali più apprezzati d'Europa. Il parco si piazza al decimo posto in Europa ed è l'unica eccellenza nazionale a far parte della top 10 europea di TripAdvisor scelto e votato dai viaggiatori. Sono orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento, dichiara il presidente del parco Tommaso Pellegrino, per chi a determinarlo non sono enti astratti ma il giudizio della gente che ha visitato il nostro territorio apprezzandone lo straordinario valore paesaggistico, ambientale e culturale. Al primo posto nella classifica c'è il Parco Nazionale del Regno Unito, seguito da quello dell'Islanda, poi da quello della Croazia. Al quarto posto ci sono due parchi del Regno Unito, seguiti da due parchi in Spagna. All'ottavo posto invece c'è un parco della Turchia e al nono ancora un parco della Spagna. Fare un salto indietro nel tempo e immaginare l'Italia del 550 a.C. diventa possibile nel Cilento, area che ospita i resti di due antiche città greche, Pestum e Velia, per un viaggio nel passato più recente, vista la Certosa di Padula, un monastero certosino patrimonio mondiale dell'umanità che risale al 1306 ed è rinomato per l'architettura in stile barocco. Con le sue ampie viste sul mare e i complessi di grotte profonde, come le grotte di Castelcivita, anche il paesaggio del parco rievoca queste epoche remote e la didascalia presente sul sito di TripAdvisor, una medaglia d'oro meritatissima dunque che premia il territorio del parco e le sue bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche.